Nella casa del grande fratello Vip, le emozioni sono sempre più amplificate. Dopo circa cinque mesi dall'inizio del reality, alcuni concorrenti iniziano ad avvertire la stanchezza emotiva, dovuta anche alla lontananza dai propri cari e l'isolamento forzato. Una delle concorrenti che in questi giorni si è sentita più spaesata e stanca è Manila Nazaro. Confidandosi con Nulu e Delia, ha rivelato di non sentirsi più a suo agio. Durante questa settimana i telespettatori hanno notato una nuova parte di Manila Nazaro, più fragile e incapace di nascondere il suo malessere. In una normale chiacchierata tra Delia e Lulu, la Miss Italia confessa. Mi sento persa, sono molto stanca e sono senza energie. Voglio andare via, ci sono tante cose. Persone nuove che hanno spostato gli equilibri e mi sento molto lontana da loro. Lo sfogo di Nazaro è andato avanti, confessando. Noi ci siamo divertiti tanto, ma ora invece mi tocca pesare tutto, perché non ho più forze. Il mio muro di gomma è ormai scalfito e non voglio perdere la mia coerenza. Con Aldo, Alex e gli altri non abbiamo mai avuto la sensazione di ansia, ora. Andati via i pezzi importanti come Belli, Aldo, Gian Maria e Manuel. Abbiamo avuto la prova di come ci si diverte tutti in simistiche. Al termine di queste parole, Nazaro scoppia in lacrime, rimpiangendo l'uscita di persone importanti, che hanno contribuito ad un grande percorso per il grande fratello VIP.